Simona Marsili, a 55 anni, di Agropoli, ha dormito per tre mesi al freddo e al gelo. Era stata sfrattata, nessuno si è occupata di lei, è morta per una polmonite bilaterale. Faceva pulizie domestiche, aveva perso da un netto il marito per un tumore. Adesso i consiglieri di opposizione Pesce, Serra e La Porta presenteranno un'interrogazione al sindaco per capire cosa è stato fatto, o per meglio dire, cosa non è stato fatto per questa povera donna. Ieri sera è arrivata la replica del comune, sottolineando che le istituzioni le hanno offerto più volte riparo presso una struttura dedicata, soluzione da lei, Simona, rifiutata. La famiglia ribadisce che Simona cercava un monolocale per lei e i suoi figli, ma nessuno l'ha ascoltata. Lavorava come collaboratrice domestica, ma non riusciva a trovare un alloggio. Morta nell'indifferenza generale, totale, nonostante la dignità, come sottolinea la dottoressa Serra, è stata ignorata completamente. Grazie.